Ciao e bentrovati all'analisi dei transiti maggiori del 2023. Per transiti maggiori intendo i movimenti planetari dei pianeti più lenti e quindi anche quelli più incisivi che ci fanno lavorare maggiormente più a lungo su determinati ambiti del nostro tema natale. Sono Saturno, Giove, i nodi lunari, mentre invece gli spostamenti degli altri pianeti che sono più veloci li studieremo, li leggeremo come sempre di mese in mese. Quindi in questo video ci concentriamo sugli spostamenti principali che ci saranno nell'anno che è alle porte. Un denominatore comune è che questi transiti principali vanno a verificarsi praticamente quasi sempre intorno alla metà del mese considerato, quindi questo è facile. Possiamo ricordarci che più o meno intorno alla metà del mese che stiamo vivendo nel 2023 qualcosa, come vedrete bene o male, succede sempre. E partiamo da gennaio, dove abbiamo il transito veramente più importante. Si tratta di Saturno che si trova nel segno del Capricorno a partire da gennaio 2020. Quindi è Saturno un pianeta molto lento, impiega più di due anni a compiere il suo tragitto all'interno di un segno zodiacale. Quindi abbiamo questa data, il 13 di gennaio, che tra l'altro è un venerdì, quindi venerdì 13, abbiamo questo importantissimo spostamento di Saturno. come vedete entra in acquario dal Capricorno, passa in acquario. E guardate che cosa si verifica, è molto interessante. Saturno da questa posizione va a fare aspetto sul nodo nord. Queste linee blu indicano che da qui Saturno lancia in particolare la sua energia su questo settore. E contemporaneamente, come vedete, c'è Ketu dalla bilancia, il nodo sud della Luna, che fa da qui aspetto su Saturno. Dunque c'è questo interessante rimbalzo di energia dal nodo lunare sud, Ketu. Quindi qui tutti noi abbiamo, in questo momento, una dinamica karmica da sciogliere e liberare, che per tutti in generale ha a che fare con il segno della bilancia. E come abbiamo ricordato più volte nel corso degli ultimi mesi, il nodo sud in bilancia ci invita a mettere da parte il bisogno di intervenire continuamente nelle vite altrui. E il nodo nord in arriete ci invita a centrarci in noi stessi, questo proprio in sintesi. Però poi ciascuno di noi nel proprio tema natale ha queste posizioni dei nodi lunari in case specifiche. Ed è qui che nasce la lettura. Quindi vi invito ad osservare ancora una volta in quale casa cade per voi il segno della bilancia e qui c'è qualcosa da lasciare andare, che sta automaticamente cercando di frenare, rallentare questo settore. perché qui adesso c'è Saturno e Saturno ha un effetto di rallentare, di contrarre, ci approfondisce in quella tematica e ci approfondirà per due anni abbondanti. Dunque è importantissimo avere presente in quale casa astrologica cade il segno dell'acquario perché qui c'è da lavorare nei prossimi due anni. Dunque c'è un nesso tra il settore della bilancia e il settore dell'acquario. Entrambi fra l'altro due segni d'aria, quindi ci sono di mezzo gli ideali perché l'aria corrisponde ai nostri pensieri, ai nostri ideali. Quindi è proprio una questione di idealismo da scardinare e più noi riusciamo a lavorare su questo settore che dal punto di vista carmico per tutti noi rappresenta dalla metà di gennaio la sfida principale perché c'è Saturno, quindi acquario e casa corrispondente all'acquario, va a riflettersi sul nodo nord di Narriete, su questo obiettivo di conquistare la nostra autonomia, indipendenza da qualunque tipo di bisogno fisico, economico, emotivo o spirituale, in più associato alla casa astrologica che corrisponde nel nostro tema natale al segno della riete. Poi naturalmente possiamo anche parlare del significato generale che avrà Saturno in acquario. tra l'altro vi ricordo che ne abbiamo avuto un assaggio tra la fine di aprile e la fine di luglio quando per effetto del moto retrogrado che poi Saturno ha assunto era ritornato in capricorno però noi abbiamo già assaggiato da fine aprile a fine luglio del 2022 questi tre mesi in cui Saturno era già entrato nel segno dell'acquario. Dunque se può aiutarvi fare mente locale, se in quei tre mesi effettivamente avete avuto delle situazioni, degli stati d'animo collegati soprattutto con il settore astrologico in cui si trova il segno dell'acquario, ecco che queste stesse condizioni molto probabilmente si andranno a ripresentare da metà gennaio in avanti. Dal punto di vista dei chakra siamo ancora sul primo chakra perché Muladhara chakra, il chakra radice, è associato al pianeta Saturno. Saturno governa capricorno e acquario e dunque ci troviamo sempre all'altezza del primo chakra. Questo significa che non abbiamo ancora finito di bonificare le nostre radici. Il primo chakra è un chakra decisivo, è quello che ci permette di scegliere se affrontare la vita come una lotta per la sopravvivenza e dunque rimanere attaccati ai bisogni terreni ma anche emotivi, anche spirituali, oppure se siamo finalmente pronti a radicarci, a sentire che siamo protetti, che siamo qui non per caso ma siamo stati voluti e dunque ad affrontare veramente la vita con vera, piena e incondizionata fiducia. Questo comporta la spogliazione dell'ego, dunque non avere più paure e ansia di nessun tipo proprio perché questo radicamento ci permette di sentirci costantemente connessi con la vita, con il cosmo, con tutta la creazione. Dunque è un punto molto molto delicato e importante e abbiamo ancora da lavorarci. L'acquario è diverso ovviamente dal capricorno, l'acquario è un segno d'aria fisso, dunque parla della nostra ideologia più radicata, è un segno collegato alla comunità, ai gruppi, alle amicizie per cui ci sarà molto da lavorare in generale per tutti noi su questo ambito, cioè che cos'è veramente la collaborazione, come possiamo portare avanti un nuovo paradigma di vita insieme agli altri. Ecco io credo che anche i nodi lunari ci stanno proprio insegnando questo, non è la dipendenza dagli altri, non è il bisogno di essere utili agli altri e poi di sentirci in bisogno di ricevere qualcosa dagli altri, ma è un libero scambio basato veramente su amore incondizionato e questo può avvenire soltanto tra persone che si sono liberate dei bisogni collegati all'ego. Dunque sarà un lavoro molto profondo, molto impegnativo, ma che ci accompagnerà verso finalmente quella nuova forma di vita sociale, di umanità di cui tanto si parla e che tanto ambiamo a raggiungere. Quindi il lavoro principale di Saturno in acquario sarà questo, quello di farci maturare nelle relazioni con gruppi di persone, dunque nel lavoro, nelle amicizie, nelle affinità elettive. Si tratta di riuscire a raggiungere uno scambio veramente equo, paritario, autentico, dove non c'è più un meccanismo di bisogno di ostentazione, ma neanche di potere, di manipolazione, dove c'è veramente parità. Stessa cosa che si auspica possa accadere anche all'interno delle relazioni più intime che noi intratteniamo. Quindi è un po' proprio il nostro modo di approcciarci alla vita che si sta pian pianino approfondendo. L'acquario è anche un segno avvenieristico, dunque Saturno in acquario sicuramente ci permetterà nei prossimi anni di iniziare a vedere soluzioni alternative che magari fino ad ora non avevamo considerato in tutti i campi. Dunque c'è da ben sperare in belle novità. Naturalmente da parte di chi avrà l'apertura per raccogliere queste novità. Dopo c'è sempre la possibilità di rimanere nel vecchio paradigma e dunque tutte queste belle, belli stimoli rimarrebbero soltanto in potenza. E passiamo alla metà di febbraio, quando mercoledì 15 febbraio, Venere entrerà nel segno dei pesci. Questo transito, anche se è un transito minore, voglio subito sottolinearlo, giusto per portare anche un messaggio di positività, nel senso che Venere nel segno dei pesci è esaltata. E Giove, con il quale si troverà in congiunzione, è domiciliato. Dunque si tratta di un momento, durerà fino al 10 di marzo, quindi poco meno di un mese, in cui però potremo davvero godere di queste bellissime frequenze di Venere esaltata in congiunzione con Giove. E questo naturalmente non è una necessità, è una potenzialità, come sempre. Se saremo in quel momento in centratura, con un atteggiamento positivo nei confronti della vita, ecco che potremo sintonizzarci su queste belle frequenze che possono portare davvero tanta luce, tanto amore incondizionato, tanta espansione, tanta positività nel settore del tema natale corrispondente al segno dei pesci. E dunque questo sarà un transito breve, ma intenso e potenzialmente molto bello. E andiamo a marzo, anche qui siamo intorno alla metà del mese, per la precisione l'11 di marzo, che sarà un sabato, quando Venere entrerà nel segno dell'Ariete. Come vi dicevo, poco fa Venere rimarrà in pesci appunto fino al 10 di marzo, poi l'11 passa in Ariete. Perché vi presento anche questo transito che sembra essere minore? Perché ci troviamo in congiunzione con Rahu, il nodo nord. E quando i pianeti entrano nello stesso segno dei nodi lunari, si innescano dei significati karmici, un po' come quando i pianeti sono retrogradi. Per cui mi sembra interessante farvi subito partecipi anche di questa combinazione karmica. Ora qui vedete la data del 31 marzo, semplicemente perché ho già catturato lo screenshot di quando anche Mercurio entrerà in Ariete. Però tenete presente che prima Venere l'11 di marzo entrerà in Ariete e poi sarà seguita anche da Mercurio. Quindi adesso vi presento velocemente quali sono i significati. Poi mese per mese li riprenderemo e li approfondiremo ulteriormente. Tra l'altro ci tengo a evidenziare il fatto che entrando in congiunzione col nodo nord, anche questi due pianeti entrano sotto l'influenza dell'aspetto di Saturno che abbiamo visto già all'inizio. Dunque questo settore davvero prende un ruolo importante e cruciale nei prossimi mesi. Perché c'è questo rimbalzo nodo sud-Saturno, Saturno-Nodo nord e come vedete va a toccare anche Venere-Mercurio. Allora, Venere congiunta al nodo nord ci parla di un atteggiamento affettivo particolare, cioè la tendenza che ciascuno di noi prima o poi nelle sue vite precedenti o anche in questa ha fatto esperienza, cioè quella di darsi troppo agli altri. Questa congiunzione parla di un dono di sé assoluto, quel bisogno di darsi agli altri, ma perché in verità se andiamo a scavare sotto sotto, anche a livello inconscio, questo darci completamente agli altri nasconde il bisogno di ricevere qualcosina in cambio. Non è ancora amore incondizionato, perché l'amore incondizionato non ha assolutamente aspettative e non ha bisogno di dimostrare nulla, c'è e basta. Quindi siamo in questo momento nelle condizioni ideali per sciogliere queste vecchie tendenze karmiche che ormai non sono più funzionali al nostro percorso evolutivo. Quindi si tratta proprio di prendere atto di questo meccanismo inconscio. Questo bisogno esagerato di rapportarsi, di avere scambi, questo essere ancora in un'emotività immatura, in un'emotività che cerca di nutrire, di essere nutrita. Ma quando siamo davvero nell'amore con noi stessi e con gli altri, ci semplicemente godiamo il presente, non c'è bisogno di ostentare attenzioni o di aspettare che anche gli altri si preoccupino di noi. Dunque lo vedo un po' come un invito anche in questo caso a maturare dal punto di vista, in questo caso emotivo, affettivo. Qual è dunque la lezione karmica che venere ci chiede di apprendere in questo momento è quella di raggiungere serenità dentro i nostri cuori e soprattutto di maturare un certo distacco. Il distacco non è qualcosa di negativo. Avere distacco significa essere centrati. Quando invece non siamo nel nostro centro e andiamo a farci coinvolgere eccessivamente nelle problematiche altrui, lì non c'è distacco ma perché non siamo nel nostro centro. Quando siamo nel nostro centro abbiamo anche la fiducia che le altre persone stanno vivendo semplicemente ciò di cui hanno bisogno. Questa crociata per liberare le persone dal dolore non credo che sia sempre così positiva. Se ci pensate nella nostra vita sono i momenti di maggior dolore quelli che ci fanno crescere veramente perché in quanto esseri umani siamo un po' fatti così, abbiamo bisogno di autocrocifiggerci. Questo è anche un po' il messaggio che il Cristo ha portato. Prima la crocifissione e poi la risurrezione. Però siamo tutti portati in qualche modo a crocifiggerci, ad autodistruggerci ciascuno nelle proprie tematiche individuali naturalmente perché è soltanto dopo un momento di destrutturazione, di morte che troviamo la spinta a rinascere. Quindi non c'è nulla di male nella sofferenza. Se imparassimo ad accettarla, a starci, ce ne libereremmo molto prima. Quindi questa è la lezione che venere porta insieme al nodo nord. Serenità e distacco nella consapevolezza che tutto è come deve essere. Non dobbiamo noi darci da fare per cambiare il nostro destino, quello degli altri. L'accettazione è davvero liberatoria. Mercurio invece, unito al nodo nord, può presentare, in particolare per chi ha dei fratelli e delle sorelle, la possibilità di risolvere delle dinamiche karmiche rimaste in sospeso. Quindi può essere questa una buona occasione per fare un salto di qualità anche nel rapporto con i fratelli e con le sorelle. Per chi non ne ha invece abbiamo un'indicazione soprattutto a livello di comunicazione, perché come sapete Mercurio è il pianeta che è collegato ai nostri pensieri, al nostro modo di comunicare. Dunque anche qui c'è una revisione in corso. Il 19 aprile, come vedete siamo sempre intorno alla metà del mese considerato, avremo un'eclissi, un'eclissi di sole, perché il sole a quel punto sarà entrato in ariete e come già detto più volte l'eclissi si verificano nel momento in cui sole e luna sono congiunti ai nodi lunari. In questo caso sia il sole che la luna, come vedete, sono nella stessa più o meno posizione. Il sole è a 5 gradi, la luna a 1, il nodo nord a 10, quindi sono tutti e tre molto vicini. Il nodo sud è naturalmente di fronte e questo comporta un'eclissi di sole. Tutti gli anni noi abbiamo due eclissi di sole e due eclissi di luna, proprio perché sono due i momenti in cui sole e luna si trovano congiunti una volta al nodo nord, una volta al nodo sud e due le volte in cui si trovano invece in opposizione. Quindi nella fase di luna nuova e nella fase di luna piena, quando si trovano congiunti ai nodi lunari. In questo caso è un'eclissi molto interessante perché vedete come continua a lavorare questo settore della riete, dove c'è il nodo nord e dove Saturno va a fare aspetto anche su questa eclissi. Dunque questo potrebbe essere veramente un momento apice del nostro confronto con questo triangolo che fin dall'inizio vi ho presentato tra bilancia, acquario e a riete. Qui tutti questi pianeti, e c'è anche Urano ancora, sono sottoposti all'influenza di Saturno che spinge. Saturno spinge, pressa, contrae perché, come appena detto, è soltanto nel momento di massimo schiacciamento che poi troviamo la spinta per reagire. E dunque qui si raggiunge veramente, credo, un buon livello di questa pressione esercitata da Saturno su questi pianeti, in particolare sul segno e sulla casa della riete. Tra l'altro un eclissi che si verificherà con sole e luna nella prima nakshatra, nella prima costellazione lunare delle 27, considerate da Jyotish, che è Ashwini. Ashwini è la stella del trasporto. Ha questa impulsività, questo bisogno di fare, ma quasi esagerato, incontrollato. Dunque è un eclissi che lavorerà ancora una volta a cercare di mitigare questa esuberanza eccessiva di energia, di emotività, di vivere tutto come ingigantito, per maturare ancora una volta. Dunque è anche poi interessante osservare in quali costellazioni lunari avvengono queste eclissi. E poi sempre questa data del 19 aprile è doppiamente importante, non solo perché si verificherà l'eclissi di sole, ma anche perché, come vedete, Giove, zero gradi o un primo, è appena entrato anche lui in ariete. Dunque dopo un anno, praticamente Giove, se non ricordo male, era entrato in pesci intorno all'11 di aprile del 2022. Giove impiega un anno a transitare in un segno zodiacale e questo è un transito importante perché significa che Giove rimarrà qui per un intero anno e perde il suo status di pianeta domiciliato in pesci perché il pesce è il segno governato da Giove. Quindi abbiamo potuto godere nell'ultimo anno delle energie più positive, più espansive di Giove nel settore corrispondente ai pesci. Adesso entra in ariete in congiunzione al nodo nord e dunque anche qui abbiamo una lezione karmica importante da imparare che è questa. Cercare di esprimere ciò che siamo e non quello che vorremmo essere. Dunque imparare davvero a incarnare la nostra essenza. Basta maschere, è un invito alla verità e non all'apparenza. Anche questo una sfida molto intensa e impegnativa. Giove qui va a sommarsi con tutti gli altri pianeti che soggiacciono all'influenza di Saturno. Quindi da un canto Giove in ariete porta espansione nel settore corrispondente al segno dell'ariete. D'altro canto va a innescare queste dinamiche karmiche e a intensificare ancora di più questo settore molto, come vedete, molto, molto transitato. È giusto il tempo che la luna dalla riete transiti nel segno della bilancia e abbiamo in questo caso l'eclissi di luna che si verificherà tra il 4 e il 5 di maggio. Questa eclissi lunare cadrà nella costellazione lunare nella nakshatra di Svati. Svati ha come obiettivo quello dell'indipendenza, ancora una volta. Il suo simbolo è una spada. Dunque la luna, l'anima, la parte emotiva, la parte più femminile, più sensibile, da questa posizione chiede indipendenza. È un denominatore comune. Proprio questo staccarsi, questo crescere, questo maturare, questo imparare a essere autonomi. Intorno alla metà di giugno, per la precisione sabato 17, Saturno assumerà il moto retrogrado. Questo farà sì che sia carico di un ulteriore karma. Già Saturno è un pianeta karmico di per sé. Quando è retrogrado abbiamo ulteriori possibilità di sciogliere dei nodi, dei residui karmici. E questo sarà fino al 3 di novembre, dunque un periodo anche abbastanza lungo. Qual è il significato karmico in generale di Saturno retrogrado in acquario? Quello di farci lavorare sull'anticonformismo, su portare delle novità, come creare un ponte tra ciò che del passato, delle tradizioni passate, ha ancora senso portare nel nostro presente, ma trasformato, rivisitato con delle nuove energie. Quindi un po' quello che si diceva all'inizio, già questo un po' è il significato di Saturno in acquario. Quando assumerà moto retrogrado, questa cosa sarà ancora più forte, più necessaria. In più, per ciascuno di noi, sarà bene andare a verificare in quale casa ha luogo questo nesso karmico di Saturno retrogrado, perché Saturno retrogrado in acquario ha questo significato, ma poi per ciascuno di noi Saturno retrogrado in una determinata casa ha un altro significato specifico, che questo però fa parte del nostro tema individuale. Tra l'altro qui vedo adesso c'è anche questo aspetto di Marte, che in quel momento sarà in cancro e dunque nella sua posizione di debilitazione, per cui il settore corrispondente al cancro in quel momento potrebbe essere un po' indebolito da questo transito di Marte che risulta essere debilitato, che si riversa proprio sul Saturno retrogrado. Quindi qui poi sicuramente lo riprenderemo nell'analisi dettagliata del mese di giugno, però ve lo anticipo, questa combinazione, quando Marte e Saturno dialogano tra di loro, c'è un'energia un po' un po' forte, un po' più da prendere in mano e va benissimo, perché questo ci permette poi di sgravarci e di liberarci di questi meccanismi ancora un po' collegati alla parte egoica, alla rabbia, anche a una certa forma magari di violenza o verso noi stessi o verso gli altri, che può essere un'aggressività anche verbale, non per forza fisica naturalmente. Però ecco, qui c'è effettivamente questa combinazione che non è detto che risulti ostica per tutte le persone. Come sappiamo ormai i pianeti sono neutri, siamo noi a sintonizzarci sulle loro frequenze. Però in generale questo aspetto di Marte debilitato su un Saturno retrogrado è comunque delicato. Rimanendo in tema di pianeti retrogradi, a partire da lunedì 4 settembre Giove sarà retrogrado, sempre nel segno dell'Ariete, dunque anche in questo caso si aggiunge al significato karmico già presente per il fatto che è congiunto a Rahu il nodo nord, si aggiunge anche il significato karmico di Giove retrogrado in Ariete e cioè la necessità di liberarsi dal giudizio. Giove è il pianeta della fiducia, della spiritualità. Quando è retrogrado significa che la fiducia è mancata e quando non c'è fiducia c'è giudizio, perché la fiducia ci riporta nella piena accoglienza, nell'unità. La mancanza di fiducia innesca, rafforza l'illusione della separazione, quindi ci sentiamo minacciati, in pericolo, che ci dobbiamo difendere da qualcuno. Quindi ci sarà da lavorare sull'estirpare il giudizio dalla nostra mente, soprattutto dal nostro cuore, e poi anche di sviluppare onestà con noi stessi. Giove è l'unico antidoto contro la paura, contro la mancanza di fiducia, è proprio l'espansione, la piena gioia e fiducia che Giove può portare. E la prima cosa da fare è sviluppare onestà, trasparenza e coerenza con noi stessi, perché se non possiamo fidarci di noi, perché ci prendiamo in giro, perché ci tradiamo, perché ce la raccontiamo, come possiamo poi essere fiduciosi a 360 gradi anche nella vita e con gli altri. Dunque questo transito di Giove retrogrado in ariete ci porterà a lavorare su un livello di onestà ancora maggiore. E siamo sul terzo chakra, Manipura, il chakra del potere personale. Quindi tutto ciò che è controllo, giudizio, bisogno di manipolare, di ostentare potere, andrà destrutturato per fortuna. E il 14 ottobre, che è poi la data a cui questo screenshot si riferisce, abbiamo questa congiunzione di Luna con il Sole, dunque la Luna nuova fondamentalmente, vicini al nodo Sud. Come vedete il nodo Sud è i primi gradi della bilancia, Sole e Luna sono agli ultimi gradi della Vergine, dunque trovandosi praticamente in cuspide, abbiamo questo fenomeno dell'eclissi, perché c'è la vicinanza tra Sole e Luna e i nodi lunari. In questo caso un'eclissi solare che si verifica in Citra. Citra è una costellazione lunare molto spirituale, ha come simbolo un gioiello brillante, è proprio indice del desiderio del nostro spirito di ricominciare a brillare veramente di luce propria, quindi di riaccendere questa vibrazione cristica che c'è dentro i nostri cuori e quest'eclissi di Sole sarà sicuramente molto interessante. Si verifica a cavallo tra la Vergine e la bilancia, quindi anche a cavallo tra il settore del tema natale corrispondente alla Vergine e quello corrispondente alla bilancia. E il 28 di ottobre, quando la Luna raggiungerà il nodo Nord nel segno della Riete, avremo questa volta un'eclissi di Luna, l'ultima eclissi del 2023, in congiunzione appunto con il nodo Nord e con Giove e Urano retrogradi. Dunque anche qui abbiamo una bella, bella dose di karma di cui liberarci. Quindi insomma davvero questo 2023 sembra essere un anno di grande e intensa purificazione. Sarà sicuramente molto interessante riscontrare tutti i doni che ci potrà portare Cammin facendo. E concludiamo questa analisi dei transiti maggiori del 2023 proprio verso la fine dell'anno con uno spostamento veramente molto molto importante che si verifica inizialmente il 4 di dicembre, come ve lo faccio vedere qui, quando i nodi lunari lasceranno l'asse a Riete bilancia per trasferirsi nell'asse Pesci Vergine. Essendo però soggetti ad un moto retrogrado temporaneo, torneranno per alcuni giorni nel vecchio asse per poi stabilirsi definitivamente nella nuova combinazione Pesci Vergine dal 10 di dicembre. Quindi abbiamo un primo veloce assaggio il 4 di dicembre ma poi è da metà dicembre in avanti che si stabilizzano. E questo apre tutto un nuovo capitolo di lezioni karmiche che ci accompagnano poi per un anno e mezzo perché i nodi lunari transitano di 18 mesi in 18 mesi in diverse combinazioni nodali. Qual è il significato generale dell'asse nodo sud in Vergine e nodo nord in Pesci? Si tratta di liberarsi dell'atteggiamento vissuto in vite precedenti o anche in questa incarnazione di eccessivo bisogno di controllo, di programmazione, di ordine, di sapere, di conoscere, di organizzare, che ha comunque ristretto la nostra veduta a scapito della connessione con il nostro cuore, con il nostro intuito e quindi questo essere stati molto nell'organizzazione ha penalizzato l'aspetto femminile dell'intuizione, della fluidità, dell'essere nel qui e ora. Ha portato a una perdita della visione d'insieme una ristrettezza mentale che ha poi generato limitatezza anche nel nostro cuore. Si tratta quindi dell'invito ad abbattere le barriere fisiche, mentali, emotive e spirituali imposte da questo controllo della mente, dell'ego per entrare veramente in un altro paradigma fatto di fiducia, di apertura, di rinuncia, rinuncia al controllo e di accettazione di ciò che è come la cosa migliore che può e deve essere in quel momento. Troppa organizzazione ci ha portati nel corso delle incarnazioni a enfatizzare il nostro ego, perché se voi pensate una persona che deve sempre programmare, conoscere, ordinare, accentua l'elemento del controllo e quindi dell'ego, mentre invece una persona che è nel qui e ora, collegata con gli eventi, che li accetta, non è così egocentrata, dunque tutto è interconnesso, questo bisogno di controllo va automaticamente a nutrire l'ego. Il nodo nord in pesci ci invita a credere, a fidarci anche di quello che non possiamo vedere, il nodo sud in vergine ha bisogno di conoscere, capire, controllare, entrare proprio nell'analisi, invece il pesci è connesso con il cosmo, non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di conoscere, un po' perché ha la consapevolezza di non sapere e poi anche perché è pronto ad accettare. Quindi sono proprio due posizioni opposte, antitetiche, dove il controllo si contrappone invece alla fiducia, l'ego al cuore e poi il pesci ci invita anche al servizio, mentre invece la vergine è più nella mente razionale, che ragiona freddamente. Il pesci è un simbolo iconografico del Cristo, non a caso Venere, come abbiamo ricordato, è esaltata nel segno dei pesci, non a caso il pesce è un segno governato da Giove, che è il guru, che è il pianeta più spirituale, e dunque siamo accompagnati in questa direzione. Però è interessante notare come siamo partiti all'inizio dell'anno dal bisogno di destrutturare questo eccessivo darsi per gli altri. Come vedete, tutto il lavoro che è intercorso da gennaio a dicembre permette poi di risalire di un livello, di un'ottava superiore, quello che avevamo lasciato. Perché un conto è se io mi dono agli altri e cerco di aiutare, ma ancora non ho raggiunto la mia libertà, la mia piena centratura, la vibrazione dell'amore incondizionato. Un conto invece è quando ho lavorato su me stesso, sono indipendente, sono autonomo su tutti i fronti, allora lì la qualità del servizio che sentirò spontaneamente di offrire, capite che sarà veramente diversa, sarà di un'ottava superiore. Dunque, come vedete, l'astrologia ci insegna che ritorniamo al punto di partenza dopo aver destrutturato quello che c'era prima e ci riagganciamo però con una consapevolezza maggiore. Per questo la visione indiana parla anche del tempo visto all'interno di cicli che si ripetono, i yuga si ripetono ma naturalmente salendo di livello, mentre invece la concezione occidentale vede semplicemente il tempo come lineare, passato, vecchio, superato, futuro, wow, evoluzione. No, qui si tratta di ritornare sulle stesse dinamiche, sugli stessi concetti, sugli stessi stati d'animo, ma con una coscienza ampliata che quindi trasmuta, trasforma il vecchio modo di vivere quelle stesse situazioni. Ecco, questa è la lettura che mi viene da presentare per quanto riguarda questo spostamento dei nodi lunari che avverrà proprio tra un anno e dunque a dicembre del 2023. Per questa lettura è tutto. Naturalmente seguiranno nei prossimi mesi le letture dettagliate mese per mese anche dei transiti minori, però mi piace sempre all'inizio di un nuovo anno cominciare a dare così uno sguardo generale su quello che ci aspetta, non tanto per essere condizionati, ma per avere uno strumento che ci permette di affrontare con maggior consapevolezza quello che la vita ci sta portando incontro. Quindi sinceri e carissimi auguri di un buon inizio di anno nuovo a tutti e grazie per essere interessati a questa visione astrologica dell'avventura che stiamo tutti quanti vivendo. Ciao, un caro saluto! Grazie a tutti!